Ma guarda, io credo che... no, merito mio assolutamente no. Io credo che il tifoso dell'Inter, per quanto mi riguarda, almeno quindi da quando ci sono io, ci è stato vicino in un momento difficilissimo come la fine del campionato scorso e ci ha incitato sempre. Quest'anno si sono presentati in 50.000 il 9 agosto e oggi l'Inter è la squadra con più abbonati d'Italia, venendo forse dalla stagione più brutta degli ultimi anni. Quindi se fai più numeri, più abbonati di squadre che magari hanno vinto, chi ha vinto lo Scudetto, chi ha vinto la Coppa Italia, chi va in Champions, io credo che al tifoso dell'Inter gli devi solamente dire grazie, parlando ovviamente dei miei tifosi.